La gente era legata al luogo comune che è un grande evento, significa infrastrutture, posto di lavoro. Expo non è questo, o meglio non è solo questo. Expo è la grande occasione nei confronti di tutto il mondo che abbiamo. È un momento di internazionalizzazione, è capire che i nostri vicini non sono più gli svizzeri, ma sono i cinesi, gli americani, gli australiani. L'Italia deve giocare una partita e deve vincere la Coppa di Expo.